Buongiorno, benvenute, benvenuti. Ci dedichiamo oggi a questo relevantissimo tema del rapporto tra psiche e alimentazione. Mangiare o nutrirsi. Bisogni fisiologici o psicologici. Qual è il cibo che produce benessere e quello che produce malessere? È tutta colpa del cibo o anche dell'attitudine con la quale uno si avvicina al cibo? Mangiare o nutrirsi non è qualcosa che si fa una volta all'anno. Si fa tutti i giorni e se non si fa bene potete immaginare gli effetti, non solo sulla salute fisica, ma anche su quella psicologica, emozionale, relazionale. L'argomento doveva essere stato importante anche nei tempi antichi. La tradizione occidentale ci rimanda interessanti dibattiti su che tipo di cibo. così gli egizi, gli assiri, i babilonesi, gli antichi indiani, nel trattato, nel famoso trattato di Ayurveda, ciara kasamita, ciara kasamita, viene data molta importanza non solo al materiale alimentare, ma all'attitudine con la quale avvicinarsi al cibo perché possiamo decidere quali tipi, quali effetti quali esiti da questo cibo trarre, ovvero non dal cibo, dal nostro rapporto con esso. È una questione di relazione. Come per litigare dobbiamo essere in due perché se non siamo in due non si litiga. bisogna averne voglia di litigare quando qualcuno ci provoca perché se non rispondiamo in maniera conflittuale è quasi sempre possibile evitare di esserne coinvolti. Così il cibo tutti i danni che produce e anche i benefici, ovviamente, non li produce da solo. ma è il rapporto che noi stabiliamo con il cibo. Il rapporto. Dunque è una questione relazionale. si riesce spesso a fare cose bellissime anche con materiali di poco conto. Ho conosciuto architetti, artigiani, ingegneri che sono riusciti a fare cose bellissime con materiali ordinari e ho visto artigiani ingegneri, architetti fare cose orrende con bei materiali. Uno crede poiché ha selezionato una qualità eccellente di Morgano o di Palissandro o di Ebano o di Bois de Rose di avere già in mano l'opera d'arte. Niente affatto. Occorre un ottimo ebanista che trasformi quegli ottimi ingredienti in un'eccellente opera d'arte. e così vale anche per il cibo. La fretta il disinteresse la distrazione il risentimento l'ansietà la paura trasformano in veleno qualsiasi tipo di cibo. la calma l'attenzione la gratitudine qui si entra in un aspetto religioso del nutrirsi la fase dell'offerta l'offerta del cibo ma che cos'è l'offerta? i giovani i moderni le donne gli uomini moderni hanno quasi perduto totalmente questo rapporto con il cibo quello dell'offerta di offrire il cibo prima di essere divorato o rispettato a seconda dell'attitudine religione da religere rilegare collegare l'uomo a Dio l'uomo al cosmo l'uomo alla intelligenza che governa tutto l'universo nel quale non siamo immersi perdere quell'idea un po' bestiale un po' banale un po' infantile di pensare che con l'atto del pagamento il cibo è diventato nostro come se noi ce la fossimo cavata semplicemente perché alla cassa del supermercato l'abbiamo pagato beh si può pensare anche così credo sia la stragrande maggioranza di persone che oggi la pensa così ma non vive bene il proprio rapporto con il cibo il cibo non è nostro perché l'abbiamo pagato denaro contro cibo è un rapporto che non funziona è una conemonia fasulla riempie fisicamente lo stomaco ma non soddisfa la psiche e tanto meno l'anima mi viene in mente un dialogo di platone un dialogo tra due grandi tra socrate platone lo infila sempre socrate nei dialoghi era il suo guru era il suo maestro e un certo glaucone glaucone era un notabile atenese dell'epoca una persona ricca potente lo tenevano in gran conto perché aveva molti mezzi un po' per la convenienza un po' per la paura davano peso a questo glaucone e questo glaucone era un sostenitore della dieta carne e pensava che nella vita si deve godere della buona cucina della buona tavola della commensalità con altri compagni che esprimono allegria a tavola e socrate dice guarda che si può godere lo stesso della buona tavola della buona cucina della buona allegria della buona commensalità ma l'utilizzo di carne non è non è mica socrate socrate uno dei maggiori padri della filosofia del pensiero occidentale è un animamente riconosciuto platone essere uno dei padri fondatori della filosofia ma platone senza socrate non sarebbe neanche esistito come filosofo probabilmente e socrate spiega a glaucone tutti gli inconvenienti di mangiare carne dell'allevare animali nel macellare questi poveri innocenti le conseguenze negative sullo stato di salute sull'invecchiamento sui tormenti provocati da angoscia ansia e soprattutto sul piano più pratico uno sperpero enorme di risorse il maggior costo pensate 2400 anni or sono quasi 2500 anni fa era già chiaro inoltre socrate con una sua avvedutissima logica spiega glaucone come il mangiare carne porti guerre socrate io vi sto riportando il pensiero di socrate per tutta una ragione per tutta una una serie di riflessioni che socrate fa glaucone risponde e comunque lo trovate nei dialoghi beh è evidente che il cibo è multifunzionale non serve solo per larsi fisicamente ma rilascia una impronta molto forte nello stato mentale e nello stato emozionale grazie